Sì, questa vittoria è molto, molto grande per me, perché in questo campionale italiana è la più forte, ho deciso di prendere una vittoria e è una gran vittoria per me. Semporaneamente è arrivato dietro anche il bulgaro, che è un autosto, quando ha passato in realtà tutti e due abbiamo cercato di portare a casa la macchina, perché forse si vedeva anche dalle immagini, erano più le volte che eravamo di traverso che le volte che andavamo dritto. Comunque è una bella gara, siamo contenti. La gara è stata molto bella, è andato tutto benissimo, a parte le prove come hai detto tu ieri, che abbiamo sbagliato le prime ufficiali, perché ci siamo accorti che le abbiamo sbagliate, però nelle seconde abbiamo recuperato, poi vincere due gare in una giornata, insomma le ciambelle una volta ogni tanto, però devo dire che nelle ufficiali di ieri pomeriggio la macchina era uguale ieri e era uguale oggi, è andato tutto perfettamente. Sono molto soddisfatto, non ci credevo neanche io all'inizio dell'anno di poter arrivare qui, ce l'abbiamo fatta, sicuramente ha premiato sia la prestazione ma anche la costanza, perché su 12 manche finora disputate sono sempre arrivato, di cui mi sembra 10 a podio, questo vuol dire tanto, oggi una bella gara, un po' in difesa nel ritmo campionato, il mio avversario benedetto mi ha dato un po' una mano da solo, ci troviamo qui con una gara d'anticipo rilassati.